ben ritrovati i miei fantascientifici amici al salone della storia della locanda sì prima che lo chiediate è passato una miriade di tempo dall'ultimo podcast ma non preoccupatevi perché c'è un motivo questi podcast piacciono e non piacciono e in più molti non sembra che abbiano capito bene che io leggo queste voci da wikipedia e quindi boh eppure c'è scritto dappertutto però in ogni caso come ogni buon libro è scritto da qualche parte io leggerò queste voci che sono scritte su wikipedia in ogni caso reggetevi forte alla vostra poltrona ed è giustamente il caso di dirlo perché oggi raccontiamo la storia dello space shuttle lo space shuttle ovvero space transportation system sts comunemente noto come space shuttle navetta spaziale oppure solo shuttle è stato un sistema di lancio spaziale riutilizzabile della nasa l'ente governativo statunitense responsabile dei programmi spaziali adibito a missioni spaziali in orbita intorno alla terra lanciato in orbita per la prima volta il 12 aprile 1981 ha portato termine la sua ultima missione il 21 luglio 2011 storia la guerra fredda e i lanci la storia dello space shuttle ha inizio e si inserisce sul finire del contesto della guerra fredda con la celebre corsa allo spazio in decisa contraposizione con l'altra grande superpotenza dell'epoca l'unione sovietica in particolare con lo sviluppo avvenuto a partire dai primi anni 70 di un veicolo spaziale riutilizzabile la nasa sperava di continuare i suoi progetti e programmi spaziali con una notevole riduzione dei costi di accesso allo spazio ma con la complessità del progetto i problemi relativi alla sicurezza e i costi operativi di funzionamento che erano quasi 500 milioni di dollari per ogni lancio hanno progressivamente disatteso queste aspettative fino alla sua definitiva dimissione nel 2011 l'intero sistema è stato ritirato dal servizio il 21 luglio 2011 dopo 135 lanci le missioni più importante realizzate hanno permesso il lancio di satelliti tra cui il telescopio Hubble e tre sonde interplanetarie di condurre esperimenti scientifici nello spazio e la manutenzione la costruzione di stazioni spaziali nel corso del programma space shuttle sono stati costruiti cinque orbiter due sono andati distrutti in incidenti e tre sono stati ritirati nella sua storia è stato utilizzato per le missioni spaziali orbitali della nasa dal dipartimento della difesa statunitense dall'agenzia spaziale europea dal giappone e dalla germania gli stati uniti hanno finanziato lo sviluppo della sts e le operazioni di gestione fatta accezione degli space lab di uno e di due finanziati rispettivamente dalla germania ovest e dalla germania riunificata inoltre la slj è stata parzialmente finanziata dal giappone primi studi dal silber vogel all x 15 la prima menzione di un razzo dotato di ala capace di lasciare la bassa atmosfera fu un progetto tedesco austriaco dell'ingegnere eugen sanger risalente al 1933 il concetto venne successivamente sviluppato verso la fine della seconda guerra mondiale con il disegno del silber vogel un velivolo che avrebbe dovuto permettere di bombardare gli stati uniti dopo aver realizzato un volo suborbitale al termine della guerra l'aeronautica militare statunitense studiò con la north american aviation un missile alato chiamato navajo per il voli di prova effettuati nel 1957 il progetto fu abbandonato in favore di missili balistici di tipo atlas titan e thor in questo periodo il centro di ricerca aeronautica statunitense la naca poi divenuta nasa fu fortemente coinvolta nella ricerca sugli aerei a razzo e tanto da realizzare il bel x1 che superò la barriera del suono nel 1947 questi studi portarono velocemente a identificare i due grandi problemi di progettazione l'instabilità nel volo atmosferico e la dissipazione del calore durante il rientro nell'atmosfera quest'ultimo portò allo studio di nuovi materiali per la realizzazione di un adeguato scudo termico la costruzione dal razzo x15 avvenuta nel 1954 consentì la sperimentazione di diverse soluzioni le nuove scoperte consentirono di raggiungere nel 1960 una velocità di 6,8 mc e un'altitudine di 108 chilometri l'x15 potrà sperimentare gran parte delle fasi di volo che incontrerà decenni più avanti lo space shuttle durante il rientro sulla terra corpo portante per ridurre le sollecitazioni termiche meccaniche subite da un aereo che vola ad alta velocità una soluzione è quella di rimuovere l'ala e generare portanza con la forma del corpo che viene allargato aerei di questo tipo chiamati a corpo portante furono studiati dalla nasa a partire dal 1957 parecchi prototipi dimostrarno la loro capacità di eseguire rientri e deviazioni del percorso con buona facilità di questo concetto fu il progetto del boeing x20 dinosaur voluto dall'aeronautica militare statunitense nel 1957 esso era costituito da un corpo portante e da un'ala a delta veniva lanciato come un razzo per poi atterrare come un aereo il progetto progredì fino al 1963 quando fu chiuso per motivi di bilancio poiché non era giustificato da uno scenario di missione chiaramente identificato il progetto di navetta in fase sperimentale 1968 1970 mentre la nasa era impegnata nelle ultime fasi dello sviluppo del programma pollo l'agenzia spaziale lanciò il 30 ottobre 1968 una consultazione per lo sviluppo di un sistema di lancio riutilizzabile in grado di mettere in orbita bassa un carico utile compreso tra le 2,3 e le 23 tonnellate e di riportare sulla terra almeno una tonnellata di carico e con un vano di almeno 85 metri quadrati nel febbraio dell'anno successivo quattro aziende north american rockwell lockheed general dynamics e mcdonald douglas vennero selezionate per partecipare a questo studio preliminare i vari centri di ricerca della nasa avevano opinioni divergenti sul progetto della navetta maxime faghet in rappresentanza del marshall space flight center era favorevole a una piccola navetta dotata di piccole ali dritte e con scarsa possibilità di compensare ma più leggera e meglio aliante a velocità subsoniche il dc shuttle 3 un aereo modello in scala 1 a 10 sarà realizzato nel maggio 1970 per studiare l'aerodinamica bassa velocità i centri di langley e dryden sostenevano invece la soluzione del corpo portante e soprattutto hanno contribuito a sviluppare l'h10 una soluzione di questo tipo ha una capacità di compensare intermedia tra l'ala dritta e l'ala delta anche se teoricamente meno ingombrante rispetto all'ultima l'air force e il laboratorio drapper erano in favore di un'ala delta che offre una capacità massima di offset la nasa successivamente decise di eliminare il concetto di corpo portante la cui forma non è compatibile con i carri di trasporto e attrezzature scartando anche l'ipotesi dell'uso di un'ala geometria variabile per l'eccessivo peso che avrebbe portato la navicella l'avvio del progetto un seguito al programma Apollo all'inizio del 1969 la nasa studiò il seguito del programma Apollo nell'euforia dei successi del programma lunare furono sviluppate diverse proposte la realizzazione di una stazione spaziale e di una base lunare una spedizione su la progettazione di una navetta un comitato denominato space task group fu creato su richiesta del presidente degli stati uniti richard nixon per preparare successivi voli con equipaggio della nasa il lavoro di questo gruppo portò alla formulazione di tre scenari possibili con un bilancio annuale che variava dai 5 ai 10 miliardi di dollari un importo pari o superiore al bilancio annuale del programma Apollo al massimo del suo sviluppo la proposta meno ambiziosa prevedeva lo sviluppo simultaneo di una navetta e di una stazione spaziale il presidente nixon non accettò nessuno di questi scenari perché li giudicò troppo dispendiosi la nasa decise così di concentrare finanziamenti sullo sviluppo della navetta spaziale ritenendo che la disponibilità di quest'ultima fosse un requisito necessario per la costruzione successiva della stazione i dirigenti della nasa ritennero inoltre che la navetta potesse essere riutilizzata per sostituire altri 10 lanciatori disponibili a quel tempo compresi quelli utilizzati dall'esercito per il lancio di satelliti in orbita la fine della guerra fredda e il crollo del programma spaziale sovietico tolsero al programma statunitense una gran parte della sua giustificazione il presidente nixon che dovette affrontare una situazione di budget molto limitato non volle far scelte di alto profilo per l'esplorazione spaziale non ritenendo che ci fossero sufficienti ricadute politiche nixon mise il progetto della nasa sotto il controllo dei supervisori del bilancio federale a partire dal 1970 e che richiese una giustificazione per ogni spesa dell'ente spaziale l'organismo di controllo pose molti limiti e vincoli al procedere dello sviluppo della navetta tanto che il direttore della nasa james c fletcher ritenne che non solo l'omb si occupasse di gestire il budget ma pretendesse anche di fare delle scelte sulla progettazione per combattere lo scetticismo della omb la nasa dette in carico a una società di consulenza esterna la matematica di realizzare uno studio sugli oneri economici del progetto i risultati furono molto favorevoli in quanto venne ipotizzata una drastica diminuzione dei costi di messa in orbita da parte della navetta riutilizzabile in confronto ai razzi convenzionali questa relazione verrà utilizzata dalla nasa per difendere la reddittività del progetto in particolare nei confronti del senato fase b il design al termine della fase a nel giugno 1970 la nasa impone nuove specifiche in una nuova progettazione più dettagliata chiamata fase b si specifica che la navetta dovrà decollare verticalmente e atterrare orizzontalmente il complesso dovrà essere collocato a un'orbita di 500 chilometri con un'inclinazione di 55 gradi e trasportare un carico utile di 6,8 tonnellate la specifica richiesta per il carico utile aumenta pochi mesi dopo per venire incontro all'esercito finanziatore del progetto che richiedeva 30 tonnellate in orbita bassa le aziende concorrenti vengono invitata a progettare due versioni una più simile alle esigenze dell'ente spaziale e l'altra invece alle aspettative dell'esercito inoltre viene richiesto che la navetta possa compiere un secondo tentativo di atterraggio qualora il primo non fosse riuscito impiegando quindi dei motori a reazione si prevedeva che la navetta fosse disponibile a tornare a volare dopo due settimane dal termine di una missione per una frequenza compresa tra i 25 e 40 voli all'anno ogni navetta doveva trasportare un equipaggio di due astronauti due aziende furono selezionate per la fase b la mcdonald douglas associata a martin marietta e la north american rockwell con general dynamics già nel marzo 1971 i due costruttori avevano preparato una bozza di progetto entrambe risultarono essere molto simili per quanto riguarda l'orbiter anche perché la nasa aveva fornito a loro delle specifiche molto restrittive molto diversi invece apparvero le proposte per il vettore un fattore comune fu l'utilizzo dell'alluminio per la struttura al posto del più efficiente titanio escluso dall'aeronautica militare perché considerato non sufficientemente testato l'abbandono del progetto di navetta completamente riutilizzabile james c fletcher divenne amministratore della nasa nell'aprile del 1971 e fin dall'inizio del suo mandato si occupò di promuovere presso il senato degli stati uniti il progetto della navetta spaziale che in quel momento era bloccato si accorse ben presto che l'unico modo per raggiungere un accordo sui finanziamenti fosse quello di integrare nelle specifiche della navetta le esigenze dei militari e per ottenere questo il loro supporto avviò anche dei tentativi di cooperazione internazionale seppur con modesti risultati l'europa e in particolare la germania si impegnò a costruire lo space lab destinato a volare nella stiva dell'orbiter e il canada a realizzare il braccio meccanico per la navetta chiamato canadarm e utilizzato per sollevare carichi in orbita nel maggio del 1971 l'ufficio del bilancio OMB annunciò che la nasa avrebbe dovuto accontentarsi per gli anni seguenti di un budget ridotto a 3,2 miliardi di dollari annui con un miliardo da dedicare allo sviluppo della navetta con questo vincolo finanziario la nasa fu costretta ad abbandonare il progetto di un sistema completamente riutilizzabile il cui costo di sviluppo avrebbe richiesto oltre i 2 miliardi annui la configurazione dell'ala delta venne però mantenuta per rispettare le esigenze dei militari sempre per rispettare i vincoli di budget la nasa optò nel giugno 1971 per un serbatoio esterno non riutilizzabile per ridurre ulteriormente i costi la nasa ha richiesto uno studio relativo al primo stadio di propulsione a cui contribuirono grumman boeing lockheed e mcdonald douglas insieme alla martin marietta e la north american rockwell i produttori dovevano prendere in considerazione tre alternative l'uso di uno stadio saturno ic e l'uso di uno stadio alimentato del nuovo motore a propellente liquido e da utilizzare un razzo a propellente solido in seguito a questo studio la nasa scelse di usare quest'ultima opzione che portava a risparmiare 500 milioni di dollari di costi di sviluppo rispetto ai propulsori a propellente liquido ma aumentò il costo dell'operazione di lancio di quasi il doppio 500 dollari per ogni chilogrammo di carico utile contro i 275 dollari al chilogrammo la decisione di cominciare il presidente richard nixon non voleva essere considerato colui che aveva fermato le missioni umane spaziale negli stati uniti che ancora erano considerate un elemento di prestigio per la nazione inoltre se l'opinione pubblica e la comunità scientifica avevano convenuto sulla necessità di ridurre il bilancio dedicato i voli umani il presidente non era immune alle pressioni dell'industria aerospaziale e alle considerazioni elettorali il ritiro degli stati uniti dal vietnam aveva portato al crollo degli ordini militari la crisi dell'industria e il declino del programma apollo che provocarono una recessione che l'industria aerospaziale statunitense non aveva mai conosciuto la metà degli ingegneri e dipendenti che lavoravano nel settore erano ridondanti questo problema era certamente rilevante per le imminenti elezioni presidenziali la nasa continuò a difendere il suo progetto di navetta spaziale evidenziando la riduzione di costo per la messa in orbita di carichi in confronto con i tradizionali lanciatori non riutilizzabili l'agenzia inoltre propose una versione più potente del sistema in grado di trasportare un carico maggiore e questo sia per venire incontro all'esigenza dell'aeronautica militare e sia per permettere il montaggio di una stazione spaziale il presidente nixon dette finalmente il suo benestare per il progetto più ambizioso della navetta e questo fu il 5 gennaio 1972 ma il suo sviluppo si scontrò con il calo costante del bilancio i finanziamenti alla nasa passarono infatti dall 1,7 del bilancio totale dello stato federale del 1970 allo 0,7 per cento del 1986 per poter finanziare adeguatamente lo sviluppo della navetta la nasa dovette abbandonare il lancio della seconda stazione skylab le missioni spaziali umane statunitensi vennero così sospese fino al primo volo dello shuttle che avvenne soltanto nel 1981 la selezione dei produttori la gara di appalto per la progettazione e la costruzione dell'orbiter fu lanciata nel marzo 1972 dalla nasa fin dall'inizio si evidenziarono le proposte della north american rockwell già costruttrice del modulo di comando e servizio apollo con sede in california e quella della grumman produttrice del modulo lunare apollo e situata nello stato di new york per il comitato di selezione della nasa la prima proposta si distinse per il suo basso costo per il ridotto peso dell'orbiter e per il solido sistema di gestione dei progetti mentre quello della grumman era ritenuto più interessante dal punto di vista tecnico il progetto della north american rockwell venne scelto in via definitiva il 26 luglio 1972 per 2,6 miliardi di dollari a questo prezzo l'azienda si impegnava a costruire due orbiter e un modello per i test operativi due orbiter supplementari erano previsti in un momento successivo l'orbiter scelto poteva mettere in orbita bassa 29,5 tonnellate e aveva una dimensione di 18,3 per 4,57 metri esso veniva prodotto a palmdale in california nel 1973 l'azienda tioccol aveva ottenuto il mandato per la costruzione dei due razzi booster e martin marietta quello per il serbatoio esterno la rocket dine fu invece selezionata a fine marzo 1972 per la produzione dei motori principali dell'orbiter lo sviluppo 1972 1981 durante i primi due anni successivi alla firma del contratto molte modifiche vennero apportate alle specifiche della navetta principalmente per ridurre i costi di sviluppo l'ala doppia delta fu introdotta in questa fase allo scopo di migliorare la capacità di volo a bassa velocità e in più permetteva con interventi limitati nel design della parte anteriore di compensare i problemi di posizione del centro di gravità che avrebbero potuto verificarsi in una fase più avanzata di sviluppo una delle novità più importanti fu l'abbandono di motori a reazione da utilizzarsi nella fase d'atterraggio per spostare la navetta ora non motorizzata tra i vari siti la nasa acquistò nel 1974 un boeing 747 usato che venne attrezzato per il suo trasporto sul dorso della fusoliera il primo test del motore ssme dell'orbiter si svolse il 17 ottobre 1975 il serbatoio esterno fu progressivamente ridotto per consentire un risparmio di peso di 4,5 tonnellate la costruzione della prima navetta enterprise terminò nel marzo 1976 ma essa non venne poi utilizzata nella fase operativa in quanto troppo pesante il 12 agosto 1977 si tenne il primo volo senza motore della navetta portato in quota e poi sganciata dal 747 nell'ambito del programma approach and landing tests la consegna dei primi ssme operativi fu rinviata di due anni a causa di alcuni inconvenienti nella fase di test che comportarono una rivisitazione del progetto nel febbraio 1980 fu completata la settima e ultima prova di qualificazione del booster il primo volo spaziale dello space shuttle avvenne il 12 aprile 1981 con la missione sts1 lo space shuttle columbia con al comando l'esperto astronauta john w young e con robert krippen come pilota realizzò 17 orbite in poco più di due giorni rientrando in sicurezza presso la edwards air force base prima dell'impiego operativo furono compiute altre tre missioni per testare tutto il sistema avvenute tra il 1981 e il 1982 il disastro del challenger e le sue conseguenze il 28 gennaio 1986 la navetta challenger andò distrutta dopo 73 secondi dal lancio uccidendo l'intero equipaggio della missione sts 51 l la causa fu un guasto a una guarnizione detta o ring nel segmento inferiore del razzo a propellente solido destro questa era la venticinquesima missione del programma e il decimo volo del challenger l'indagine della commissione rogers evidenziò la cattiva gestione del programma da parte della nasa il problema che ha causato l'incidente era già stato identificato ma sottovalutato a causa di un miope approccio e di una mancanza di dialogo tra i vari responsabili il rapporto rivelò inoltre che i rischi delle missioni erano superiori a quanto stimato questo rapporto modificò pesantemente l'operatività della navetta venne infatti stabilito che il lancio di satelliti e qualunque altra operazione spaziale che non avesse dovuto disporre di un equipaggio per il suo raggiungimento si sarebbe realizzata mediante lanciatori convenzionali in modo da non rischiare inutilmente vite umane questa scelta comportò la fine della carriera commerciale dello space shuttle poiché lo sviluppo di lanciatori convenzionali era rimasto fermo per l'utilizzo della navetta questo contribuì al successo del lanciatore europeo ariane il challenger venne sostituito dall'endeavor costruito con parti di ricambio delle altre navette nel maggio del 1991 l'operatività della navetta dopo il challenger dopo una pausa durata 32 mesi la prima missione dopo l'incidente la sts 26 fu lanciata il 29 settembre 1988 dopo l'incidente del challenger il dipartimento della difesa rinunciò all'uso della navetta spaziale una navetta e una base di lancio dedicata esclusivamente alle necessità militari era stata costruita presso la vandenberg air force base e stava per essere inaugurata al momento dell'incidente challenger e non sarà mai utilizzata nonostante la nuova scelta per l'uso della navetta vari satelliti e sonde furono inviati nello spazio grazie ad essa poiché il loro design non consentiva la messa in orbita per mezzo di vettori tradizionali l'incidente del columbia e la decisione di cancellare il programma 2003 2010 il primo febbraio 2003 l'orbiter columbia dopo che il rivestimento esterno dell'ala sinistra rimase irreparabilmente danneggiato da un frammento del rivestimento schiumoso del serbatoio esterno staccatosi al momento del lancio si disintegrò durante la fase di rientro atmosferico uccidendo tutti i membri del suo equipaggio ancora una volta venne messa in discussione la gestione del programma da parte della nasa l'anomalia che aveva portato al disastro era ben nota ma non venne mai risolta inoltre il fitto calendario di montaggio della stazione spaziale internazionale imposto nel 2001 dai tagli al bilancio imposti dalla nasa mise sotto pressione lente spaziale tanto da fargli sottovalutare i rischi quando dopo 18 mesi i voli ripresero con la missione sts 114 molte misure vennero adottate per limitare i rischi a ogni missione venne imposta un'accurata ispezione dello scudo termico una volta raggiunta l'orbita se la valutazione avesse riscontrato dei problemi irrisolvibili un secondo shuttle era pronto per essere lanciato per compiere una missione di salvataggio il 15 gennaio 2004 il presidente statunitense george w bush rese pubblici gli obiettivi a lungo termine del programma spaziale americano nel campo dell'esplorazione del sistema solare e delle missioni umane questa strategia è formalizzata nel vision for space exploration la definizione di questo documento fu spinta da due motivazioni la nasa doveva sostituire la flotta di navette spaziali che risaliva quasi tre decenni prima ma la stazione spaziale doveva essere completata e resa pienamente operativa e la seconda motivazione era che il presidente voleva ricondursi ai successi del programma apollo fissando obiettivi ambiziosi e coinvolgenti che vedevano in primo piano l'esplorazione dello spazio da parte dell'uomo le ultime missioni facendo eco all'approccio del presidente john kennedy george w bush chiese alla nasa di realizzare un programma che consentisse di effettuare i viaggi sulla luna entro il 2020 questo programma prese il nome di programma constellation si stabilì inoltre che i voli dello shuttle dovessero terminare entro il 2010 quando la stazione spaziale internazionale doveva essere completata nel 2010 il presidente neo eletto barack obama cancellò il constellation per motivi di bilancio e protrasse la vita dello shuttle fino alla prima metà del 2011 con la missione conclusiva sts 135 effettuata l'otto luglio e con questo miei cari ospiti tutto se detto riguardo l'utilizzo e la vita dello space shuttle in attesa che ilon musk riesca a conquistare anche l'universo a noi resta solo incrociare le dita e sperare che il prossimo futuro dell'uomo sia ancora nello spazio il vostro host e vi saluta e vi rimanda a un possibile nuovo podcast di storia ποrichedelità si non Grazie a tutti